ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più sopravvissuto di città in congelamento puzzillo e oggi vediamo la recensione di frost punk il gioco da tavolo prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella inoltre se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo vi consiglio lo store magic merchant dove troverete tante promozioni e offerte per approfondire vi lascio il link in descrizione e nei commenti frost punk è un gioco da tavolo collaborativo da 1 a 4 giocatori nella durata indicativa di 120 150 minuti a partita edito dalla glass canon unplugged grazie a una fortunatissima campagna kickstarter in italiano lo porta a pendragon game studio che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e infine l'autore è adam kwapinski spero di averlo pronunciato correttamente per quanto riguarda l'ambientazione è quella del celebre videogioco post apocalittico frost punk in cui i giocatori andranno ad interpretare i leader di una colonia che dovrà combattere contro tutte le insidie di una sorta di nuova era glaciale le temperature così basse porteranno a malattie il cibo le risorse scarseggeranno e vi saranno inoltre problemi di natura etica e sociale ad esempio emanare una legge per far lavorare anche i bambini infatti i giocatori dovranno fare attenzione al malcontento della colonia e l'obiettivo è quello di sopravvivere invece per quanto riguarda il genere abbiamo un ibrido euro american cui le meccaniche principali sono il piazzamento lavoratori la gestione delle risorse e un po di card driven il gioco è a scenari singoli questi teoricamente compongono una campagna narrativa però ogni scenario può essere giocato individualmente senza aver giocato i precedenti ognuno di questi va a modificare delle regole di gioco a un setup differente o comunque della componentistica nuova che entra nella partita e l'obiettivo è quello di raggiungere la conclusione dello scenario senza perdere vi saranno un sacco di sistemi per la sconfitta ad esempio la gente muore di fame oppure troppi cadavere accumulati la speranza che sparisce del tutto il malcontento che arriva a livelli improponibili e per evitare ciò i giocatori dovranno gestire al meglio la colonia che staranno comandando il gioco è diviso in round e ogni round è composto da tante sottofasi in alcune bisognerà alimentare sistemare il generatore in un'altra risolvere gli eventi del mattino in altre sfamare e fornire un letto caldo a tutti i nostri abitanti in un'altra ancora controllare il meteo le temperature le spedizioni e la caccia ma il cuore del gioco è sicuramente la fase azioni dove ogni giocatore a turno dovrà posizionare un lavoratore per poter esplorare nuove zone raccogliere le risorse costruire nuovi edifici emanare leggi scoprire nuove tecnologie oppure attivare le abilità degli edifici che sono stati costruiti in precedenza insomma di roba da fare ce n'è davvero tantissima ma come al solito non vi voglio anticipare troppo e vediamo la recensione del gioco partiamo dalla componentistica e per quello che mi riguarda gioie e dolori ovvero alcune cose sono davvero ben fatte altre invece andrebbero riviste partiamo dai punti positivi e sicuramente abbiamo la qualità e la quantità dei componenti specialmente quest'ultima lo scatolone è pieno zeppo di materiale tra carte tantissime carte segnalini token tessere c'è veramente l'inferno all'interno di questa scatola e anche la qualità dei materiali l'ho trovata davvero molto buona ad esempio le tessere edifici sono abbastanza spesse il generatore principale altissimo imponente o anche i token che rappresentano risorse lavoratori e scenario del gioco come gli alberi di contro invece abbiamo tutto il resto partendo dal regolamento che è lungo fra l'altro è pieno zeppo di termini alcuni che si ripetono e lascia spazi da alcuni dubbi vi consiglio di rileggervelo più e più volte l'inserto uno dei peggiori mai fatti sarà una vera impresa a far riuscire a entrare tutto all'interno della scatola la torre del generatore che si bellissima maestosa ma se piazzata al centro del tabellone andrà ad occupare una parte della mappa e quindi non vedremo cosa c'è dall'altra parte quindi il mio consiglio è di posizionarla non al centro ma in un punto laterale del tabellone di gioco anche dietro le carte il setup di gioco che è davvero lunghissimo la prima volta si parla di un setup di anche di 30 40 minuti poi prendendoci la mano un po meno ma è comunque molto molto lungo specialmente giocando agli scenari avanzati e infine il prezzo che è un po troppo altino 125 euro di listino mi sembrano esagerati avrei preferito qualcosa come 100 euro quindi valutate in base a quello che vi ho detto e attenzione perché se non avete un tavolo grande la vedo dura perché il gioco occupa tantissimo spazio sul tavolo spostiamoci all'ambientazione e questa si sente parecchio il gioco racconta le vicende che abbiamo già visto nel videogioco segue la stessa storia e hanno fatto un notevole lavoro non soltanto per la componentistica e la grafica del gioco che sono spettacolari ma anche per la maggior parte delle meccaniche che si sono un po astruse però comunque molto ben tematizzate ad esempio emanando una legge avremo una conseguenza di come risponderà il popolo quindi se state cercando un gestionale con molta ambientazione avete trovato pane per i vostri denti da questo punto di vista è davvero superbo per quanto riguarda le meccaniche a me sono piaciute però ci sono dei contro il gioco è parecchio intricato arzigogolato per quanto riguarda l'unione di tutte le meccaniche dovremo tenere ad occhio un sacco di carte di tracciati il tabellone principale gli edifici ok ci aiutano le schede di riferimento come anche l'app che io straconsiglio però gestire tutto non è facile di base stiamo parlando di un piazzamento lavoratori con gestione risorse in cui dovremo gestire una miriade di sfighe infatti sono quei classici giochi che io chiamo gestioni sfighe un po alla robinson crusoe tra le cose che mi sono piaciute sicuramente il sistema di calore e freddo all'interno del gioco ovvero rifornendo il generatore andiamo a tenere al caldo determinate edifici o zone del tabellone principale e tenere al caldo significa fare delle azioni senza al malus invece farle al freddo significa che una tipologia di lavoratore di cittadino si ammala poi mi piace molto il fatto che l'obiettivo dello scenario verrà rivelato man mano all'inizio dobbiamo semplicemente cercare di sopravvivere e seguire le istruzioni iniziali e infine mi è piaciuto anche il fatto che buona parte del gioco ruota attorno alle pedine lavoratori e i contatori dei cittadini perché non solo dovremo cercare di proteggerli dalla temperatura ma dovremo anche sfamarli curarli dare un posto per dormire e in casi particolari utilizzare i loro poteri speciali dati dalle carte cittadino quello che invece non mi è piaciuto molto a livello di meccaniche è innanzitutto la brutale difficoltà e questa è dovuta da problemi di ergonomia perché tenere tutto d'occhio è difficilissimo ci sono una marea di informazioni da ricordare basti sapere che ogni edificio ha dei poteri particolari e ce ne sono tantissimi fin dal primo scenario quello introduttivo e poi alcune scelte anche se inizialmente positive potrebbero portare risultati negativi infatti la fortuna ci mette lo zampino ma ne parleremo poi successivamente nella parte del fattore fortuna forse avrei preferito un po di snellimento per quanto riguarda le meccaniche perché ci sono davvero una marea di eccezioni casi particolari o comunque regole e regolette da imparare e ho trovato alcuni elementi anche ridondanti come le carte consigliere che hanno un effetto una volta per round e se ne può attivare uno solo perdendo della speranza e poi il comando che serve veramente a ben poco ma anche su queste cose torneremo successivamente in definitiva promuovo le meccaniche anche se avrei preferito qualcosa di più snello e lineare spostiamoci all'interazione e per quello che mi riguarda il gioco ne ha poca e niente vi è un problema di fondo che questo gioco ha una scalabilità fittizia nel senso che è perfetto per il solo ma giocarlo in due tre quattro giocatori va sempre a peggiorare perché tutta la componentistica in comune tra i giocatori con l'eccezione delle carte dei consiglieri ne abbiamo una per giocatore e la mano di carte dei cittadini è roba che comunque si attiva non molto spesso durante la partita e non è che cambi tantissimo anzi con lamentare del numero di giocatori le decisioni diventano sempre più caotiche perché ci saranno dei batti becchi su come procedere e dal mio punto di vista l'interazione si ferma qui anche perché poi c'è il segnalino comando per indicare il primo giocatore o chi spezza i pareggi dunque se state cercando un collaborativo con forte interazione tra i giocatori secondo me avete sbagliato gioco per quanto riguarda la longevità secondo me il gioco ne apparecchia è vero che sono pochi gli scenari mi sembra quattro al massimo cinque anche se del primo ci sono diverse varianti però il quantitativo di scelte da fare durante una partita le carte che escono casualmente tra quelle del tramonto e della mattina tutti gli effetti gli edifici in cui ne vedremo soltanto una parte portano un'ottima rigiocabilità del titolo certo una volta vinto uno scenario non vi saranno motivi di doverlo rifare anche se nel gioco si possono impostare le difficoltà di ogni partita però sicuramente alla prima partita non riuscirete a vincerlo vuoi un po per l'esperienza la difficoltà brutale quindi per quanto riguarda la longevità non è estrema a livelli mostruosi ma secondo me il gioco è messo davvero davvero molto bene spostiamoci all'accessibilità e sicuramente questo gioco è sconsigliato a neofiti e giocatori occasionali bisogna giocarlo e rigiocarlo continuamente perché innanzitutto vi sono una marea di regole da dover ricordare è un gioco molto punitivo e brutale che non perdona tanti errori e si vede che è stato fatto nello specifico per chi mastica cinghialoni o comunque titoli molto complessi e profondi quindi se vi ritrovate in quella categoria di hardcore gamer allora ve lo consiglio mentre per tutti gli altri lasciate stare perché fin dalla lettura del regolamento è davvero molto molto tosto a digerire per quanto riguarda il fattore fortuna questo c'è e si fa anche un po sentire il gioco essendo un gestionale procura al giocatore dei sistemi per poter un po arginare la fortuna però l'imprevedibilità è sempre dietro l'angolo e sto parlando in particolare del mazzo delle carte mattina e quello del tramonto il mazzo della mattina presenta degli eventi a cui i giocatori dovranno rispondere con delle scelte e fra l'altro non sapranno queste scelte dove porteranno i giocatori in alcuni casi ad eventi successivi negativi in altri eventi successivi positivi il mazzo tramonto invece lo trovo pure peggio perché è vero che noi abbiamo un'anteprima della nostra prossima disputa sociale però poi in questo mazzo entreranno le conseguenze di quanto fatto in altri elementi o aspetti del gioco ad esempio la conseguenza di una legge oppure un evento futuro di un qualcosa che abbiamo risolto durante la mattina dunque sicuramente lo sconsiglio a tutti quei giocatori che cercano un gestionale un euro game completamente controllabile la fortuna c'è e si sente anche parecchio però d'altro canto non aspettatevi un gioco completamente dominato alla fortuna perché alcuni sistemi per andarla a ridurre ci sono insomma anche da questo punto di vista per me il gioco è un ibrido spostiamoci all'esperienza e qui la dedizione e la padronanza del gioco ripagano tantissimo direi che quasi tutto all'interno del titolo perché conosce la struttura dei round cosa fanno gli edifici lo scenario le leggi che appliceremo le possibili conseguenze alcune delle carte che entrano in gioco danno un vantaggio mostruoso all'interno di una partita il fatto poi che tutti i giocatori condividono quasi tutti i pezzi lo rende anche un problema per il cosiddetto alpha player poiché sicuramente questo giocatore inizierà a dare consigli a sinistra e a destra per facilitare lo scenario vista la difficoltà terrificante del gioco quindi se amate i giochi dove la padronanza la dedizione l'esperienza ripaga avete trovato il gioco dei vostri sogni mentre in tutti gli altri casi io vi direi di rivolgervi altrove in merito alla scarabietà per quello che mi riguarda è uno dei difetti principali del gioco perché la scatola lo spaccia da 1 a 4 giocatori ma secondo me è un perfetto solitario quindi se voi amate i giochi in solo allora vi dico subito che questo è il gioco dei vostri sogni e ignorate quanto sto per dire mentre in tutti gli altri casi sappiate che il gioco è sopportabile al massimo in due giocatori in 3 4 diventa molto caotico e anche poco sensato perché comunque i giocatori condividono quasi tutto della componentistica che offre il gioco e all'aumentare del numero dei giocatori aumentano anche le chiacchere le discussioni inutili che fra l'altro allungano anche i tempi di gioco che già non sono bassi quindi come detto prima se voi amate il gioco in solitario è perfetto in tutti gli altri casi occhio perché il gioco è sopportabile in massimo due giocatori spostiamoci la durata e qui vi ho un difetto del gioco perché le partite sono molto molto lunghe sicuramente le prime arriverete a giocare anche 4 5 ore mentre successivamente conoscendo a memoria il gioco ed escludendo il setup io direi che potreste riuscire a concludere uno scenario in due massimo tre ore di gioco quindi come vedete è uno di quei giochi da tavolo che richiedono davvero molto tempo per essere apprezzati dipendenza della lingua il gioco è dipendente dalla lingua quindi stracarico di testo specialmente sulle carte e i fogli di riferimenti però pendragon game studio l'ho portata in italia quindi non vedo il problema arriviamo infine alle mie impressioni su frostpunk il gioco da tavolo vi dico fin da subito che io sono un amante del videogioco e stavo aspettando il momento della rivalsa del riscatto dopo this war of mine per chi volesse approfondire lascio qui il link insomma di cosa accadde tanto tempo fa e vi dico fin da subito che a questo frostpunk il gioco da tavolo mi è piaciuto molto però non è un gioco che consiglierei a chiunque e anzi vi darò dei consigli per approcciarvi al meglio alle vostre prime partite per prima cosa vi consiglio di recuperare l'app è fatta molto bene perché vi segue passo passo durante le fasi del gioco ricordandovi i momenti principali elimina il mazzo del meteo è una sorta di enciclopedia con le regole generali poi vi consiglio di buttare il terrificante inserto all'interno del gioco per due motivi il primo è che è molto difficile far entrare tutto nella scatola il secondo è che questo vi allunga un setup che già nel gioco è lunghissimo quindi o createvi un inserto per conto vostro oppure prendete uno di quelli non ufficiali oltre ciò rimanendo sulla componentistica fate attenzione allo spazio che viene occupato sul tavolo di gioco richiede tantissimo spazio quindi un tavolo bello grande e infine per quanto la torre il generatore sia fatto benissimo però dà fastidio al centro del tavolo infatti il mio consiglio è di metterlo da parte in modo così da poter lanciare i cubetti all'interno della torre ma non dar fastidio per la visibilità purtroppo anche il regolamento non è il massimo è lungo e lascia spazio da alcuni dubbi insomma dover apprendere tutte le regole non è cosa semplice e infatti è un gioco che ha un'accessibilità davvero ridotta si vede che è fatto solo per hardcore gamer per chi invece cerca un gestionale più tranquillo leggero occasionale di una partita una volta ogni tanto ha sbagliato proprio titolo se invece siete tra quei giocatori che amano il gioco quando ripaga grazie all'esperienza della dedizione allora avete trovato pane per i vostri denti poi vi è la questione della finta scalabilità il gioco porta da 1 a 4 giocatori ma sappiate che è un perfetto solitario proprio al massimo due giocatori in 3 e 4 ve lo sconsiglio perché la maggior parte dei componenti sono condivisi tra tutti i giocatori e quindi ci saranno solo chiacchiere e indecisioni inutili come la maggior parte dei collaborativi potrebbe presentarsi il problema dell'alpha player oltre tutto questo viene una durata eccessiva le prime partite vi porteranno via anche 4 5 ore di gioco ma una volta assimilata la struttura dei turni sapendo a memoria cosa fanno le strutture lo scenario insomma come si gioca potreste arrivare a concludere uno scenario in due ore e mezza massimo tre ore quindi come vedete è anche un gioco molto lungo e qui voi mi chiederete ma puzzillo praticamente lo stai bocciando no vi sto dicendo che praticamente questo gioco a me è piaciuto ma non è per tutti visto i difetti che vi sto elencando comunque eventuali problematiche che per alcuni giocatori potrebbero essere tali per altri no ad esempio tra le varie cose che mi sono piaciute innanzitutto vi è la componentistica sia per quanto riguarda la qualità ma specialmente la quantità dei componenti c'è un sacco di roba all'interno dello scatolone auguri la prima volta a defustellare tutto un'ambientazione molto sentita e riuscitissima infatti il gioco è un ottimo ibrido da questo punto di vista mescola alcune delle meccaniche presenti alla maggior parte degli aerogame con l'ambientazione che si sente in molti american game anche le meccaniche mi sono piaciute parecchio in particolare il sistema del calore ad aree edifici dove quindi rifornire il generatore ma anche il piazzamento e la gestione dei lavoratori dovremo farli dormire quindi riposare li dovremo sfamare e anche curare se malati insomma bisognerà gestirli sotto molti punti di vista peccato solo che alcune delle meccaniche siano un di più che si poteva pure evitare si vede che è stato fatto molto per riempirlo e caricarlo tantissimo e ho sicuramente avrei preferito qualcosa di più snello e liscio anche se vi ripeto che per come sono fatte non mi sono dispiaciute anzi lo apprezzate parecchio altra cosa il gioco è brutalmente punitivo bisogna conoscerlo bene perché pochi errori possono portare a sfaceli o comunque anche la sconfitta io sinceramente questa cosa la metto tra i pro però mi rendo conto che molti giocatori non amano i giochi punitivi specialmente in tempi moderni il gioco è messo bene anche dal punto di vista della longevità ci sono 4 barra 5 scenari e il primo ha delle varianti ok una volta che finiamo con successo uno scenario non lo rifaremo però arrivare a concluderlo non è cosa da poco sicuramente non ci riuscirete alla prima partita però durante poi quello scenario ci saranno un sacco di strade percorribili questo grazie al quantitativo di carte e di edifici che abbiamo a disposizione quindi una buonissima longevità anche se non mostruosa e poi il gioco si presenta come librido perfetto per quanto riguarda il fattore fortuna alcune cose si potranno controllare ma dovremmo sempre fare i conti con l'elemento dell'imprevedibilità quindi se cercate un gestionale controllabile in cui la fortuna si può mitigare fate attenzione perché qui è forte si sente infatti in definitiva volevo dirvi che questo gioco ricorda proprio tantissimo Robinson Crusoe e il gioco da tavola a cui si avvicina di più se siete masticatori di cinghiali e vi piace quella tipologia allora il gioco è straconsigliato mentre per tutti gli altri fate molta attenzione a quello che io vi ho detto durante la recensione perché a me il gioco è piaciuto molto però come avete visto non è per tutti quindi occhio dunque siamo arrivati alla fine di questo video vi ricordo che oggi è il day one del gioco quindi appena riuscite a provarlo fatemi sapere cosa ne pensate del gioco di questa recensione commentate qua sotto vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti